bellissimo preferisci i capelli bianchi e i capelli neri ma soprattutto la riconosci questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Avemei Avemei produce candele profumate diffusori per l'ambiente e spray per profumare questa è la candela tulum il pack è stupendo è questo verde acqua col topo in legno e come vedete è ben iniziata questo è il formato maxi è 100% cera di soia quindi vegana fatta a mano e fatta in Spagna e le sostanze all'interno non sono tosi è completamente sicuro accenderla e godersi il suo aroma è forse la mia candela preferita a livello di profumazione la fragranza è a base di ambra ginsomino e baciuli che danno un aroma esotico fiorito questo è il pack esterno della candela tulum mi piace tantissimo l'attenzione ai dettagli anche su questo pack un altro prodotto che ho apprezzato tantissimo è questo diffusore a bastoncini nella fragranza pine a parte il pack opaco che secondo me è bellissimo è un oggetto di arredamento veramente bello e ovviamente profuma l'ambiente in modo delicato ma molto elegante questo al suo interno avvino e eucalipto e cetro e se stanno avanti alla montagna non possono apprezzare questo aroma per voi ho un codice sconto che è chiara tra chi vi dà il 50 per il 50 senza minimo di spesa ed è valido fino a dire il 50 di verso disegnato per me io ringraziava e me per aver sponsorizzato questa parte di video io ringrazio mi ringrazio subito mi ringrazio subito grazie di essere grazie di essere qui 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 Come oggi. Oggi voglio farti un massaggio alla testa e aggrezzarti un pochino i capelli. Spero non sia inquietante, io oggi sono abituata, per me è normalissimo vedere una cosa vera. Ricorda che se questo video ti piacerà, diventa un mi piace e ti ringrazio tanto per il tuo supporto. Voglio cominciare da dei semplici grattini. E puoi fare anche spazzolarti un pochino i capelli. E se non ti dispiace, qualche volta vorrei anche parlare a bassa voce. bassa, bassa, bassa voce nelle tue orecchie. Tu, se non ti sgoccia, spero non ti dia fastidio, spero ti faccia. Sì, non ti dia, tanti brividini. Tanti, 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 tanti. 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 Tanti? Tanti? Grazie a tutti. Mi concentro su questo rato, un ottimo. Spero ti piuttano questi gattini. Con un po' di tongue clicking, perché no? No. 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 bellina le codine Passo dall'altra parte molto bello farsi toccare i capelli C'è un po' di più ok preferisci i capelli bianchi o i capelli neri ma soprattutto la riconosci? il video in cui è stato questa parrucca te lo ricordi? cioè riconosci questa parrucca? ti ricorda qualche video? ti ricorda qualche video? o adorato faremo il video ok 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 onestamente questa parrucca è fatta molto bene nel senso che i capelli sono belli non sono secchi guarda tantissimo avere i capelli così ma non li raducerò mai cioè fra un bel po' di anni fra un bel po' di anni ma non così colorazione ok 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 c'è ok i mattini sembrano quasi onde del mare cosa dici? bello 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 adesso 서로 un pochino la spazzola probabilmente non vedrai quello che farò no, direi di no magari apposso un pochino la ripresa va meglio bene bene puoi 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 Grazie a tutti 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 Tanto, 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 tanto Grazie a tutti 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 Buon One Buonui Buon Buon Grazie a tutti